allora come dicevo iniziamo oggi appunto questa unità di teoria chiamata t1 è una delle due unità di teoria di una teoria 1 teoria 2 e questa unità parla della rappresentazione dell'informazione rappresentazione dei dati la t2 invece parlerà un pochino di più sull'architettura dei calcolatori queste parti mi chiede Simone se si possono trovare sul libro sì e no la risposta nel senso che sono un po' sparse nel libro in quei paragrafetti che sono inseriti a metà della programmazione in python ma sono trattati in modo diverso le informazioni ci sono ma come vedrete non si tratta di cose particolarmente diciamo così complesse si tratta più che altro di capire diciamo così le metodi di calcolo e di metodi di rappresentazione quindi faremo un po' di esercizio qualcosa sul libro c'è alcune cose sono più approfondite più dettagliate altre cose sono meno dettagliate di quelle che faremo noi ma diciamo così adesso le vediamo insieme poi verso la fine del corso facendo esercizi simili esame capirete anche un po' il livello di approfondimento a cui a cui sono richieste queste cose allora partiamo dal dall'inizio ritorniamo alla prima lezione la prima lezione in cui abbiamo detto il calcolatore è una macchina digitale elettronica che è in grado di fare delle elaborazioni partendo da una rappresentazione dei dati che è principalmente binaria 0 e 1 allora cerchiamo oggi di ricostruire un po' come il calcolatore può fare a rappresentare le informazioni numeriche non numeriche semplicemente avendo due dati di base due valori di base che non sono solamente 0 e 1 per far questo facciamo un passo indietro e chiediamoci noi come facciamo a rappresentare i numeri essendo in base lavorando in base 10 ad esempio quando noi scriviamo il numero 252 che cosa rappresenta beh questo l'abbiamo imparato talmente così presto l'abbiamo interiorizzato talmente bene alle scuole elementari che non ci pensiamo neanche più quando vediamo 252 ma questa altro non è che una scorciatoia per indicare due centinaia cinque decine e due unità detto in altro termine noi contiamo o rappresentiamo i numeri scomponendoli in potenze di 10 ok quindi l'unità sono in realtà una un peso che si applica alla potenza dice la 0 le decine sono un peso che si applica alla potenza dice la 1 le centinaia sono un peso che si applica alla potenza dice la 2 un peso di tipo moltiplicativo e quindi qualunque numero per noi non sarà altro che una somma di potenze del 10 dice la 0 dice la 1 dice la 2 moltiplicate per opportuni pesi e questi pesi altro non sono che le cifre del numero che stiamo rappresentando quindi i numeri che scriviamo normalmente nella notazione cosiddetta araba altro non sono che una diciamo così una abbreviazione di un sistema di numerazione che diciamo così è a certe caratteristiche diverse da quelle di altri sistemi di numerazione abbiamo fatto arriviamo dalla settimana scorsa in cui abbiamo fatto un esercizio su numeri romani dove la regola di funzionamento era molto diversa ad esempio il sistema romano la cifra x vale 10 sempre a volte può valere meno 10 via se precede una c ma per il resto vale sempre 10 indipendentemente da dove si trova mentre invece il nostro sistema di numerazione lo chiamiamo posizionale perché il valore di una cifra se io scrivo 3 e non so in che posizione del numero è questo 3 se all'inizio metà al fondo non so se questo vale 3 unità 3 decine 3 migliaia 3 decimi 3 centesimi 3 millesimi e così via i sistemi di numerazione posizionale sono molti ma quello che usiamo noi chiaramente quello in base 10 decimale 10 perché abbiamo decidita nonostante alcune popolazioni invece contassero su base 60 o su base 20 per motivi diciamo così storici culturali quindi il nostro sistema di numerazione è un sistema di numerazione posizionale decimale cioè noi contiamo in base 10 dove il valore di ogni cifra dipende dalla posizione che questa cifra assume all'interno del numero questo noi lo riassumiamo tutto tutte le regole sulla rappresentazione dei numeri le riassumiamo in questa formula questa formuletta che è il caso generale rispetto all'esempio che abbiamo fatto prima 2 5 2 2 per 10 alla seconda più 5 per 10 alla prima più 2 per 10 alla zero ecco questa formula qui ci dà il caso generale cioè quando io rappresento un numero attraverso una sequenza di cifre nella mia rappresentazione posizionale decimale in realtà questa rappresentazione vedete a 2 2 2 3 sono le cifre del numero come se io scrivessi 1 7 8 4 5 è un numero noi leggiamo 17 845 in realtà abbiamo che a con 0 vale 5 a con 1 vale 4 a con 2 vale 8 a con 3 vale 7 e a con 4 vale 1 quindi se chiamiamo ogni cifra con un a con i questa cifra a con i va moltiplicata quindi il mio a con i che è la singola cifra dovrà essere moltiplicata per 10 questa b vale 10 elevato a i io le cifre le numerate da destra verso sinistra e partendo da 0 proprio per avere questa uguaglianza a con 0 è moltiplicato per 1 cioè 10 alla 0 a con 1 è moltiplicato il 4 che sono decine moltiplicato per 10 10 alla 1 a con 2 sarà moltiplicato 10 alla 2 a con 3 è moltiplicato per 10 alla 3 a con i è moltiplicato per 10 alla i quindi quando noi scriviamo una sequenza di cifre che per noi rappresenta un numero in realtà stiamo applicando questa formula il valore vero di questo numero non è altro che la somma delle potenze di 10 moltiplicate ciascuna per il valore di ciascuna cifra corrispondente alla posizione in cui la cifra si trova quindi la cifra più a destra quella unità avrà potenza 0 la potenza di 10 alla 0 e quelle via via più alla sinistra diciamo così saranno associate alle potenze successive del 10 noi questa formula in realtà la possiamo vedere in base 10 quindi con b uguale 10 oppure in altre basi non siamo obbligati a porre b uguale noi siamo abituati a contare in base 10 ma se guardate in questa formula non c'è nulla che implichi che possa funzionare solamente col 10 quindi potremmo avere un valore di b uguale 8 conto in base 8 conto in base 20 conto in base 2 qual è la caratteristica quando io uso una certa base che può essere 10 può essere solo 10 avrò bisogno di un certo vocabolario di cifre se io conto in base 10 avrò bisogno delle cifre che vanno dallo 0 al 9 mi saranno 10 cifre in totale dallo 0 al 9 se contassi in base 8 alle mie cifre andrebbero solamente dallo 0 al 7 se contassi in base 20 avrei bisogno delle cifre dallo 0 al 9 fino al 19 non c'erano tanti simboli diversi mi sarebbero 20 simboli diversi 10 potrebbero essere numeri e le altre potrebbero essere lettere l'alfabeto e così via se io conto in base 2 mi serviranno solamente due simboli 0 e 1 che sono due valori diversi che possono assumere questi vari a con i quindi i miei a con i appartengono semplicemente all'insieme 0 1 le mie cifre che ho presentato qua come a con i sono 0 oppure 1 se la base è la base 2 la base 2 è la base in cui lavora il calcolatore e quindi il calcolatore lavora in un sistema di numerazione posizionale come quindi la logica le regole sono quelle della base 10 ma binario sistema di posizionale binario binario non vuol dire altro che base 2 e le cifre 0 1 che abbiamo visto prima prendono il nome ogni cifra prende il nome di bit noi in base 10 diciamo la cifra prima seconda terza cifra unità decine migliaia in base 2 prendiamo il nome di bit che non è altro che la contrazione di binary digit cioè cifra binaria non è nulla di speciale la cifra binaria può essere 0 oppure 1 ok e qui la regola si applica nello stesso modo quindi se abbiamo il numero ad esempio scritto qua 101 no non devo dire 101 101 perché questo non è 101 e la voglio pensare come un numero presentato in base 2 e mi scrivo la base qua a pedici in piccolino per non per non sbagliarmi per ricordarmi come lo posso leggere questo numero beh lo leggerò con la solita regola la sommatoria degli a con i per base elevato i dove base questa volta è 2 quindi avrò la con 0 fatemelo scrivere qua a con 0 uguale 1 che viene moltiplicato per 2 alla 0 avrò a con 1 uguale 0 che viene moltiplicato per 2 alla 1 avrò a con 2 uguale 1 che viene moltiplicato per 2 alla 2 cosa sono questi 101 sono le cifre di questo numero quindi questo qua è a con 0 scrivo solamente il pedice non scrivo anche la a se non mi sta quindi questo è 0 questo è 1 questo è 2 a con 0 vale 1 a con 1 vale 0 a con 2 vale nuovamente 1 ok e quindi il valore di questo numero non è altro che la somma di 2 alla 0 cioè 1 per 1 più 0 per 2 alla 1 perché abbiamo 0 per 2 più 4 che fa 5 ok quindi possiamo leggere il numero semplicemente applicando la definizione poi si può fare in modo anche no anche anche più rapido diciamo così dopo un po quando uno ci prende la mano quindi se io un numero che operazione abbiamo fatto qua abbiamo preso un numero binario l'abbiamo convertito nell'equivalente decimale per capire quanto valesse l'equivalente decimale applicando che metodo semplicemente la definizione cioè questa questo calcolo che abbiamo fatto qui a latere che rappresentato da questa formuletta che rappresentata qua sotto alto non è che questa sommatoria con b uguale 2 quindi non abbiamo fatto nient'altro che applicare la definizione di sistema di numerazione qui ci sono alcuni esempi alcuni esempi ad esempio questo numero prendiamo in uno caso che cos'è uno dovrebbe fare il conto vede a con 0 vale 1 quindi è 1 per 2 alla 0 più 0 per 2 alla 1 più 1 per 2 alla 3 qui i pesi sono 0 1 2 3 avendo 4 bit un numero presso su 4 bit in realtà questo si può vedere molto facilmente perché questo qui 2 alla 0 vale 1 2 alla 1 vale 2 2 alla 2 vale 4 2 alla 3 vale 8 immaginiamo un numero su 4 bit i singoli bit hanno pesi 1 2 4 8 letti da destra verso sinistra così come in base 10 avrebbero peso 0 10 100 1000 10.000 e allora questo numero vale vale 8 più 4 più 1 cioè basta che io faccio la somma delle potenze dei due dove compare l'uno quindi quest'altro numero è 8 più 4 più 2 8 più 4 12 più 2 14 sì è vero possiamo fare tutta la sommatoria ma in realtà visto che poi questi coefficienti a con i nel nostro caso possono valere solo 0 oppure 1 vuol dire che quel peso c'è o non c'è quella cifra c'è o non c'è se c'è la sommo quindi 1 2 4 8 16 le varie potenze di 2 se non c'è semplicemente salto con la potenza e vado a vedere quella successiva in base 10 più complicato perché devo prendere la potenza del 10 e moltiplicarla per il numero moltiplicarla per 6 per 7 per 4 per quanto deve essere ok per quanto riguarda invece le la parte destra di questa slide ci ricorda quelle che sono le principali potenze di 2 quindi così come noi della scuola elementare impariamo le potenze di 10 e in binario impariamo le potenze di 2 semplicemente non diciamo la tabellina che quasi tutti diciamo alla fine almeno fino 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 a 16 sappiamo già chi chi si occupa di informatica sa sicuramente memoria queste sono le potenze diciamo così più le prime potenze del 2 che ci servono per fare i conti se io faccio i calcoli con i numeri su 4 bit quindi ad esempio i numeri che vanno fino al 15 mi serviranno le prime quattro potenze quindi da 2 alla 0 a 2 alla 3 e invece la potenza 2 alla 4 mi servirà come quinto bit la 2 a 5 mi servirà come sesto bit e così via il famoso gioco 2048 gioca proprio su sommare i numeri uguali a se stessi e quindi ottieni sempre le potenze di 2 una potenza dei due notevole è questa fatemelo scrivere provo a scrivere molto recente per una volta il fatto che 2 alla 10 vale 1024 e 1024 è circa 10 alla terza ok quindi questo lo vediamo meglio tra un attimo ma ci dà un significato approssimato di k noi quando fate fisica quando facciamo così usiamo il metodo di calcolo normale mille è rappresentato come k quindi un chilogrammo un chilometro sono mille metri o mille grammi è una coincidenza che 2 alla 10 sia molto vicino a mille qui siamo ingegneri quindi la differenza tra mille mille 24 è del 2 per cento 2,4 per cento approssimato al 2 per cento quindi ci possiamo accontentare ok di questa similitudine e quindi ogni 10 potenze del 2 abbiamo tre potenze del 10 quindi 2 alla 10 sarà circa mille 24 e quindi 2 alla 20 sarà circa un milione e 2 alla 30 sarà circa un miliardo che rappresentiamo col simbolo di giga e così via poi ci sono dei dettagli in più su questa unità di misura però ci aiutano a collocare l'ordine di grandezza dei numeri che ci interessano quindi se io un numero binario di 10 cifre che numero uno sono 10 cifre no più o meno è minore di mille perché 10 cifre arrivi fino a 2 alla 10 e quindi arrivi fino a circa mille 24 però sono potenze utili perché ci permettono di fare una correlazione tra quelle che su quel mondo delle potenze del 10 che abbiamo diciamo così ormai intuitivamente lo gestiamo bene e il mondo delle potenze del 2 che stiamo imparando che cosa possiamo farci con questi numeri beh l'operazione più semplice l'abbiamo già vista è convertire un numero decimale un numero binario nel corrispettivo decimale e questo come dicevo il modo più semplice applicare la definizione oppure applicare appunto la versione abbreviata la definizione semplicemente andando a sommare quelle che sono le potenze del 2 2 alla 0 2 alla 2 e 2 alla 3 corrispondenti alla presenza degli 1 dove c'è la rappresentazione del numero mentre invece lo 0 essendo 0 non dà nessun contributo alla sommatoria quindi questo è molto semplice da fare anche se il numero forse molto lungo basta sommare le potenze del 2 corrispondenti agli 1 l'operazione inversa è un pochino più articolata un pochino più complessa e si può ottenere attraverso un metodo anche anche pratico basato su una serie di divisioni successive di resti di divisioni successive oppure a volte si vede ad occhio allora vediamo entrambe le possibilità se io vi dico 21 lo invento così il numero 21 in base 10 a che cosa corrisponde in base 2 allora per saperlo io devo decomporre questo 21 in una somma di potenze del 2 visto che alla fine immaginate quello che facciamo prima la rappresentazione binaria non era altro che una somma di potenze del 2 questa potenza la sommo non la sommo la metto non la metto e qui facciamo l'operazione inversa per ottenere 21 che cosa devo fare devo fare che qual è la potenza del 2 più grossa che ci sta dentro il 21 32 è troppo 16 ci sta quindi questo qua sarà 16 più qualcosa più quanto ebbè cosa resta 16 più 5 no 21 è 16 più 5 5 però non è una potenza del 2 però la posso facilmente decomporre come somma di altre potenze quindi 4 più 1 fa 5 quindi a occhio dicevamo ho decomposto il numero che volevo rappresentare come somma di potenze di 2 facendo cosa semplicemente chiedendomi ogni volta qual è la potenza più grande che ci sta dentro dentro il 21 ci sta il 16 ok ciò che è rimasto sono 5 qual è la potenza più grande che ci sta nel 5 4 e allora metto 4 cosa rimane 1 e allora in questo caso la potenza dell'1 avendo decomposto questo vuol dire che noi il nostro numero in base a 2 lo scriviamo facilmente perché abbiamo scriviamolo qua per la prima volta 2 alla 0 2 alla 2 e 2 alla 4 giusto? il 2 alla 3 che sarebbe 8 e il 2 alla 1 che sarebbe 2 non ci sono in questa decomposizione quindi il 2 alla 0 quindi il 2 alla 0 scriviamocelo qua 0 1 2 3 4 questi sono i pesi giusto per averli incolonnati 2 alla 0 c'è vale 1 2 alla 1 non c'è metto 0 2 alla 2 c'è perché ce l'ho qua 2 alla 3 non c'è 2 alla 4 c'è questo è il mio numero 21 rappresentato in base 2 1 0 1 0 1 16 più 4 più 1 e questo lo possiamo fare a piacere anche su numeri più grossi questo numero si esprime ha bisogno di 5 bit per essere rappresentato quindi mentre in decimale ha bisogno di 2 cifre decimali in binario invece c'è bisogno di 2 bit solamente di 5 bit ovviamente essendo la base più piccola avrò bisogno di più posti per rappresentare il numero adesso mi chiede cosa si fa il 22 beh il 22 si fa nello stesso modo 22 è uguale a 16 poi 22 meno 16 cosa mi lascia? mi lascia 6 allora 6 lo ricompongo come 4 più 2 e quindi avrò 0 1 quindi 2 alla 0 che vale 1 non c'è 2 alla 1 che vale 2 c'è 2 alla 3 2 alla 3 aspettate fatemelo fare qua 0 1 2 3 4 quindi 2 alla 2 c'è che vale 4 2 alla 3 che vale 8 non c'è 2 alla 4 c'è e vale 1 questo è un metodo appunto in cui vado a cercare di decomporre un numero come potenza di 2 bisogna avere in mente abbastanza bene le potenze del 2 e bisogna semplicemente partire sempre dalle potenze più grandi una volta che la decomposizione è come somma di potenze semplicemente colloco gli uni nella posizione giusta nelle colonie giuste l'alternativa e questo è un metodo se vogliamo più intuitivo più manuale più veloce se lo facciamo a mano invece l'alternativa era un metodo anche algoritmico un metodo metodico una macchinetta che gira la manovella e alla fine esce fuori il numero e questa manovella c'è sotto forma di divisioni successive vediamo l'esempio che c'è sulla slide poi proviamo a fare i nostri due numeri sul nostro alato diciamo così allora questo esempio prende il numero 13 e dice vogliamo convertire il numero 13 decimale sottinteso in binario come faccio faccio ripetutamente l'operazione di divisione per 2 l'operazione di divisione per 2 quindi 13 diviso 2 fa 6 può dare un resto oppure no se dal resto lo scrivo qui resto uguale 1 poi perché dal resto perché 13 è un numero dispari ovviamente quindi diviso per 2 dal resto 1 poi che sto dividendo per 2 il resto può essere solo 0 o 1 o c'è o non c'è poi ripeto 6 diviso 2 6 diviso 2 mi da 3 questa volta non c'è resto resto vale 0 perché 6 era un numero pari 3 diviso 2 da 1 ma essendo 3 un numero dispari questa volta il resto vale 1 1 diviso 2 da 0 con il resto di 1 quindi io cosa faccio prendo il numero e ripetutamente gli do delle mazzate in testa ogni volta lo divido per 2 prima o poi arriverò a 0 per forza ok? dimezzando ogni volta e prendendo divisione intera quindi ogni volta prendo solamente la parte intera e ad ogni mazzata perdono ad ogni divisione esce un resto quello che mi interessa è la raccolta dei resti i resti rappresentano la codifica in binario del numero letti al contrario però nel senso che il primo resto che mi esce fuori è a con 0 poi ho a con 1 poi a con 2 a con 3 e quindi se devo scrivere il numero dovrò scriverlo in modo speculare rispetto a quanto mi è uscito ok? quindi vedete che il numero alla fine è 1 1 0 1 è venuto fuori così e questo a con 0 era questo l'a con 1 è questo e così via quindi devo riscrivere il numero da destra verso sinistra proviamo a rifarlo con gli altri nostri due esempi magari prendiamo un altro esempio vediamo se ero capace una volta a fare la pagina bianca eccolo qua prendiamo io non so come fare a togliere questa cosa scusate 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 vabbè eh ps vediamo bianco allora prendiamo un numero 28 e proviamo a applicare questo metodo ripetutamente qui parliamo di numeri interi è solamente cioè per ora stiamo solamente trattando la rappresentazione di numeri interi quindi e quindi lavoriamo su divisioni intere e cose di questo genere 28 si si decompone con il metodo delle divisioni successive come abbiamo visto prima quindi io devo dividere ogni volta 28 per 2 ogni volta i numeri che che diciamo che escono fuori divido per 2 28 diviso 2 fa 14 e poiché 28 era pari il resto è 0 poi se 14 diviso per 2 fa 7 e 14 a sua volta è pari quindi il resto fa 0 7 diviso 2 quanto fa 7 e 7 più 2 fa 3 fa 3 e mezzo quindi fa 3 col resto di 1 3 diviso 2 fa 1 col resto di 1 e 1 diviso 2 fa 0 col resto di 1 quando arrivo a 0 mi fermo questo è il mio numero quindi il numero 28 in base a 10 si rappresenta come 1 1 1 1 0 0 in base a 2 ok semplicemente così questi il numero che scrivo qua sotto è uguale alla sequenza dei resti letta al contrario ok mi chiedono di farlo mi chiedono di farlo con 22 non è molto diverso 22 11 0 perché 22 è pari poi 11 diviso 2 fa 5 col resto di 1 5 5 essendo di 1 diviso 2 fa 2 col resto di 1 2 diviso 2 fa 1 col resto di 0 1 diviso 1 fa 0 col resto di 1 e qui mi fermo non è un caso che l'ultima colonna sia sempre fatta così 0 col resto di 1 anzi le ultime due colonne sono praticamente sempre fatte così 1 diviso 2 fa 0 col resto di 1 e quindi qua il numero sarà 1 0 1 1 0 in base 2 che dovrebbe essere uguale a quello che abbiamo visto prima Andrea mi chiede perché al contrario perché devo scrivere al contrario e non perché lo devo scrivere dritto se vuoi una spiegazione intuitiva è molto semplice 28 cos'è? è un numero pari e quindi la cifra delle unità unità binarie sarà 0 quindi la prima divisione va 0 se il numero è pari va 1 se il numero è dispari e il fatto che il numero sia pari o sia dispari lo vedo dall'ultima cifra del numero tutti i numeri pari finiscono per 0 tutti i numeri dispari finiscono per 1 questo in base 2 come in base 10 perché? ma perché tutte le altre numeri tutte le altre cifre sono moltiplicate per 2 elevato a qualche potenza quindi sono tutte pari le altre cifre l'unica che può rendere il numero dispari è la cifra dell'unità quindi ogni volta che io divido per metà sto dicendo guarda questo è un numero pari quindi finisce per 0 e poi gli altri bit rappresentano il numero 14 se io vado a vedere questi bit qua rappresentano esattamente la metà del 28 cioè rappresentano il 14 14 a sua volta è pari quindi c'è uno 0 e ciò che resta questi 3 bit presi da soli rappresenterebbero il 7 e così via questo è diciamo così il ragionamento che sta dietro a questo metodo della divisione successiva cioè ogni volta io ho una macchinetta per cui a ogni iterazione scarto il bit meno significativo ogni volta scopro qual è il bit meno significativo come faccio a scoprirlo? banale vedo se il numero è pari o dispari poi di mezzo e vado a chiedermi cosa fanno quanto fanno i val gli altri quanto quanto numero mi manca ancora quanto è il valore che devo ancora rappresentare nei numeri successivi ovviamente per numeri piccoli i due metodi si equivalgono quando ho 5-6 bit da rappresentare o numeri diciamo che si rappresentano su pochi bit alla fine il numero di operazioni che faccio è circa lo stesso questo secondo metodo capite che è molto più facile da automatizzare perché io faccio un algoritmo che ogni volta divido per due prendo il resto prendo il quotiente e itero fino a quando il quotiente diventa zero cioè scrivere un'istruzione while di due righe è banalissimo in questo caso con questo tipo di algoritmo ovviamente il numero di bit che saltano fuori per la rappresentazione binaria del numero dipenderà dal valore del numero cioè più il numero è grande più mi serve una quantità elevata di bit in particolare se io avessi a disposizione solamente un bit beh questo può rappresentare solamente due numeri il numero zero il numero uno se io avessi a disposizione due bit potrei rappresentare i numeri che vanno dallo zero al tre cioè tutte le combinazioni di due bit zero zero che vale zero zero uno che vale uno leggendoli diciamo in binario uno zero vale due uno uno vale tre e così via quindi avendo a disposizione n bit in totale fino a che numero posso rappresentare allora questa è una domanda che normalmente non ci facciamo in base a 10 sì forse sì se avessi a disposizione otto cifre fino a quale numero puoi rappresentare e allora potresti dire beh se ho a disposizione di otto cifre posso rappresentare il numero fino a 99 milioni 999 mila 999 però è più una curiosità che altro perché poi in base a 10 usiamo tutte le cifre che ci servono nel caso dei calcolatori e quindi della base binaria è più importante fare questo ragionamento perché all'interno del calcolatore lo vedremo un po' meglio quando faremo l'architettura il numero di bit è fisso c'è un calcolatore che magari ha la cpu voi lo sapete non ho mai installato il sistema operativo a 32 bit o a 64 bit eccetera eccetera ecco questi numeri sono la dimensione del dato che il calcolatore in modo nativo in modo hardware è in grado di gestire e quindi io devo sapere qual è il numero di bit cioè in base scusate al numero di bit che ha il mio calcolatore quali sono i numeri che lui è in grado di gestire poi attenzione che con dei trucchi software lui è in grado di gestire numeri di qualunque dimensione ma a livello hardware di circuito elettronico se io ho 16 bit non ne ho 17 e quindi il calcolatore nativamente a livello diciamo di codice binario è in grado solamente di lavorare con dimensione fissa dei numeri quindi ci chiediamo se io avessi un calcolatore con n bit e questo n tipicamente è 16 può essere 32 può essere 64 valori di questo genere i primi calcolatori che sono usciti i primi personal computer che sono usciti avevano 8 bit lo vedete ancora oggi se andate in giro i videogiochi a 8 bit erano fatti su CPU che avevano internamente diciamo così quantità di memoria dimensionata su 8 bit e quali numeri posso rappresentare? posso rappresentare tutti i numeri che vanno da 0 al valore massimo che è 2 alla n meno 1 tutti i numeri se stiamo parlando di numeri interi naturali interi positivi da 0 a 2 alla n meno 1 perché? perché lo possiamo vedere in tanti modi diversi in realtà un modo di vederlo potrebbe essere questo cioè da dove arriva 2 alla n allora il modo di vederlo sono diversi uno me l'ha detto anche nella chat dicendo ma sì ma il numero di valori possibili totali è uguale al numero di permutazioni di due cifre in n posizioni possibili giusto? quindi se io ho n bit avrò due alla n combinazioni possibili sarebbero combinazioni con ripetizione non permutazione perché permutazione lo stesso elemento non può venire ripetuto più di una volta e quindi questa combinazione distinte tutti i zeri tutti i zeri con uno al fondo tutti i zeri uno zero eccetera eccetera ne posso avere due alla n distinte e quindi queste rappresenteranno i numeri da zero a due all'n meno uno perché se no due all'n in totale due all'n meno uno sarà il numero massimo che posso rappresentare perché una delle combinazioni è stata già usata per lo zero quindi se io ho un calcolatore a 32 bit lui sarà in grado di rappresentare i numeri che vanno da zero i numeri interi che vanno da zero a due alla 32 meno uno attenzione che meno uno è fuori dalla potenza ossia 32 767 32 767 su 32 bit no ho sbagliato scusate questo era 16 16 se fosse 16 bit no ho sbagliato ancora scusate questo era 15 scusate perché poi uno si ricorda le cose a memoria ma perché si ricorrono tanto ma se io avessi 2 a 32 adesso lo scrivo giusto 2 a 32 meno uno quanto fa boh è un numerone proviamo a avere un ordine di grande lo potete fare con la calcolatrice ovviamente vedete cosa vi viene ma anche senza bisogno della calcolatrice 2 a 32 è 2 a 30 per 2 a 2 2 a 30 sappiamo che è un miliardo 2 a 2 sappiamo che vale 4 quindi sta roba è circa 4 miliardi quindi su una se io avessi 32 bit a disposizione posso rappresentare i numeri che vanno da 0 a 4 miliardi e rotti e più e più di 4 miliardi perché 2 a la 10 non fa 1000 ma fa 1024 per avere il numerino giusto uno prende la calcolatrice e lo fa però è per avere l'ordine di grandezza un calcolatore a 8 bit può rappresentare dei numeri fino a 255 a 16 bit fino a 64 mila a 32 bit fino a 4 miliardi 64 bit mi manca il numero perché 2 alla 64 2 alla 60 corrisponde circa 10 alla 18 quindi è un numero abbastanza ampio questi bit qua sono noi lo stiamo vedendo dal punto di vista diciamo così matematico di come si rappresentano i numeri ok e quindi ci stanno chiedendo domanda se vogliamo quasi accademica ma se io ho 27 bit che numeri posso rappresentare in realtà sono delle entità fisiche all'interno del calcolatore cioè all'interno del calcolatore ci sono delle celle di memoria che hanno un certo numero di bit e quindi il calcolatore lavora con un calcolatore a 32 bit lavora a 32 bit per volta quindi quando voi avete un sistema operativo così rispondo a Filippo a 32 bit lui legge e scrive ogni volta i dati a 32 a blocchi a parole si dice in gergo di 32 bit per volta un calcolatore a 64 bit invece leggerà e scriverà parole memorizzerà e farà i calcoli con parole di 64 bit ciascuna poi in realtà la cosa è più complicata perché noi abbiamo il cosiddetto parallelismo della CPU che può essere 32, 64 quelle moderne sono tutte 64 e poi abbiamo il software che in realtà può mettere il processore in modalità 32 in modalità 64 e quindi tu su un computer tra 64 bit puoi anche installarci un sistema operativo a 32 ma qui diciamo così stiamo complicando le cose dal punto di il concetto vedremo qualcosa in più quando vedremo l'architettura nel modulo 2 di teoria ma il concetto che ci interessa sapere è qua che abbiamo il numero di bit limitato e quindi è importante sapere che la mia aritmetica anche sarà limitata io posso fare i conti solo se i conti che faccio se i numeri che devo rappresentare non sforano non superano il limite dato dalla 2ln-1 l'altro modo di vedere che viene 2ln-1 in realtà se qualcuno di voi è bravo di matematica vede che in realtà questa sommatoria qui il numero più grosso che posso rappresentare qual è? il numero più piccolo è se metto 0 sempre il numero più grosso è se metto 1 sempre ovviamente più 1 metto più questo numero sarà grosso allora se vedete questo qui applicando la formula viene fuori somma di 2 elevato a i per i che va da 0 a n-1 allora questa qua è una di quelle somme di una serie geometrica è la ridotta n-1 di una serie geometrica e quindi dovreste saperla io non più ma voi dovreste saperla fare calcolare e vedete che vale proprio 2 ln-1 c'è la solita formoletta che la somma di a con i è uguale 1 su 1 meno a qualcosa di questo genere ok quindi dal punto di vista perché ho scritto 2 alla i perché in realtà ho sempre un 1 1 per perché tutte le cifre a con i valgono tutte 1 proprio perché sto cercando di massimizzare il numero più grande possibile ricordiamoci queste 2 ln-1 perché poi il nostro limite per fare i calcoli e quindi quando facciamo i calcoli con l'hardware con il calcolatore vero e proprio lui non lavorerà mai un bit solo per volta un bit rappresenta una quantità di informazione infima raggruppa i bit in gruppi più significativi la famoso byte non è altro che un raggruppamento di 8 bit e oppure se non bastano 8 bit avrò delle cosiddette parole che sono possesse parole di 2 byte di 4 byte 2 byte vuol dire 16 bit 4 byte vuol dire 32 bit 8 byte vuol dire 64 bit e questo questi gruppi di bit li vediamo insieme e rappresentano una singola un singolo numero un singolo valore una singola istruzione eccetera eccetera un singolo carattere non a caso il carattere asci i caratteri del codice asci sono espressi su 8 bit e quindi l'alfabeto della tastiera del computer si rappresenta con numeri che vanno da 0 a 255 anzi in realtà erano solamente 7 bit originariamente il unicode che è rappresentare tutti i simboli invece è un codice a 32 bit e quindi può avere 4 miliardi di caratteri diversi che il codice diciamo così la rappresentazione dei caratteri che viene usata in python quindi linguaggi diversi periodi diversi calcolatori diversi e via via è sempre aumentata la quantità di memoria che usavamo per rappresentare le informazioni e quindi in questo caso qua abbiamo un esempio di una parola fatta da più bit e semplicemente hanno c'è una terminologia per cui distinguiamo quello che è il bit meno significativo che in gergo viene chiamato lsb non lsd quella è la troga lsb least significant bit oppure il bit più significativo è il most significant bit lmsb a volte se vi trovate queste sigle lsb msb non sono altro che quello che finora avevamo chiamato a con 0 e quello che finora avevamo chiamato a con n-1 attenzione n-1 perché se ne ho n in totale e quello meno significativo denominato con l'indice 0 il più significativo avrà indice n-1 come sempre ormai abbiamo imparato a contare da 0 n elementi partendo da 0 si contano da 0 a n-1 8 bit da a con 0 ad a con 7 64 bit da a con 0 ad a con 63 e così via questa semplicemente è una terminologia che si dà se io applico la formula che dice che 2 alla n-1 2 alla n-1 è il valore massimo che posso rappresentare dato un certo numero di bit che ho qua rappresentato in modo crescente e qui ci sono alcuni valori questo è il famoso 4 miliardi di prima io ho detto circa 4 miliardi qui avete il numero esatto che salterà fuori dalla calcolatrice questa colonna simboli rappresenta quanti combinazioni diverse di 0 e 1 posso ottenere e questa mi darà ovviamente il valore massimo che posso rappresentare che altro non è che l'n-1 cioè 1 in meno rispetto al numero di simboli possibili perché 1 in meno perché lo 0 mi ha preso una combinazione e quindi non conta la rappresentazione dello 0 conta come una combinazione quindi il numero più grande sarà uguale al numero di simboli diversi meno 1 cosa possiamo farci con questi numeri oltre che divertirci a convertire avanti indietro e farci gli scherzi possiamo inventarci tutto un sistema aritmetico tutta una matematica basata che abbiamo imparato in base 10 si può anche imparare in base 2 ad esempio la somma 0 più 0 quanto fa? 0 0 più 1 fa 1 1 più 0 fa 1 e fin qui 1 più 1 noi diremmo noi che viviamo in base 10 diremmo fa 2 e chi vive in base 2 invece il 2 non ce l'ha come simbolo né come concetto allora l'1 più 1 in base 2 è come quando diciamo quanto fa 5 più 5 fa 0 col riporto di 1 farebbe 10 però quando faccio l'operazione io non scrivo 10 in una casella perché 10 non è una cifra lecita scrivo 0 e poi mi ricordo che devo portarmi un riporto sulla cifra successiva la stessa cosa succede in binario se io devo fare 1 più 1 questo qua farà noi sappiamo che dà il concetto di 2 il 2 si rappresenta però con uno 0 è un riporto da sommare alla cifra successiva è un po' più facile quando abbiamo imparato a fare le somme con i numeri abbiamo dovuto imparare quanto fa 5 più 7 8 più 3 perché c'erano tutte le combinazioni c'erano 19 combinazioni di no non so 19 tante combinazioni di due cifre la somma di due cifre decimali invece qua c'erano solo 4 combinazioni in totale che sono elencate qua e quindi questa è la regola per fare le somme in binario facciamone una a caso prendiamo un foglio bianco vogliamo sommare in binario due combinazioni che mi sto inventando adesso 1 0 1 1 1 0 ad esempio e 0 1 1 0 0 1 sommo non so lo vediamo dopo quanto valgono in decimale questi numeri non lo so se io sono un calcolatore il decimale non lo conosco nemmeno allora che cosa faccio? e faccio come farei all'elementare parto dalle unità e vado avanti 0 più 1 fa 1 senza riporto ok 1 più 0 fa 1 senza riporto 1 più 0 fa 1 senza riporto 1 più 1 farebbe 2 quindi 0 col riporto di 1 poi la cifra successiva che devo fare? devo fare 0 più 1 più 1 di riporto quindi 0 più 1 più 1 di riporto fa di nuovo che cosa? fa di nuovo 2 quindi 0 col riporto di 1 sulla cifra successiva cosa avrò? 1 più 0 più 1 di riporto quindi 1 più 0 più 1 fa 2 cioè 0 di nuovo col riporto di 1 questo riporto di 1 si somma a due numeri che non ci sono se 0 e 0 perché il numero finiva qua farò la somma e mi dà un 1 qui quindi ho applicato lo stesso meccanismo che usiamo per fare la somma semplicemente lavorando in base 2 anziché in base 10 il riporto in questo caso può valere solamente 0 1 e il valore della somma può valere sempre 0 1 perché questi sono gli unici numeri che abbiamo le uniche cifre che abbiamo vediamo se abbiamo fatto una cosa giusta cos'è questo numero? questo numero è 7 più 16 no scusate è dunque 2 abbiamo detto 2 più 4 più 8 più 1 2 4 8 6 32 ok? quindi il primo numero è 46 il secondo numero è più facile perché è 1 1 sì 2 no 4 no 8 sì 16 sì quindi 16 più 8 fa 32 più 1 33 quindi abbiamo fatto 46 più 33 6 più 3 9 4 più 3 7 vediamo se è vero qui abbiamo proviamo a convertire il risultato in decimale per vedere cosa viene fuori viene 1 più 2 più 4 8 16 32 64 più 64 quindi 64 e 4 fa 68 2 70 71 c'è qualcosa che non quadra cosa ho sbagliato che 16 più 8 fa il secondo numero 25 giusto giusto quindi io sono più capace a contare in binario che non in decimale avete scoperto quindi 46 più 25 6 più 5 11 4 4 2 6 e 1 7 ok grazie quindi sì avevo sbagliato a convertire il 33 era in realtà un 25 ok adesso facciamo un altro esempio voglio solo farvi vedere notare una cosa che noi avevamo fatto la somma di due numeri che erano su 6 bit e il risultato è saltato fuori su 7 bit e questo non ci deve sorprendere se io sommo due numeri da 0 a 100 il risultato potrebbe quindi con due cifre il risultato potrebbe venire con tre cifre perché il riporto mi potrebbe generare la cifra delle centinaia in decimale questo non ci preoccupa in binario dobbiamo sempre chiederci e tra un attimo daremo il nome a questa situazione ma poi questo bit in più ce l'abbiamo davvero? allora se io ho un calcolatore che ha la memoria di 8 bit e il risultato lo devo riprendere su 7 bit ci sta tranquillo non c'è problema se però il mio calcolatore per assurdo avesse solamente 6 bit il settimo lo perdo proviamo a fare un altro esempio non so proviamo questa volta a fare il contrario prendiamo due numeri decimali li scriviamo in binario e poi facciamo l'operazione ok quindi possiamo fare che ne so 17 più ditemi voi non 25 perché porta male perché l'ho sbagliato già prima 21 ok il primo che l'ha detto vince 17 più 21 64 è troppo facile 64 hai fatto 1 tutti i 0 quindi ora lo possiamo anche fare 17 più allora 17 che cos'è? 17 in base a 10 lo rappresento come è 16 più 1 no? 16 8 4 2 1 mi avete seguito? 17 è 16 più 1 quindi scrivo un 1 e lo faccio valere 16 poi vado scendo con le potenze del 2 l'8 non c'è quindi ho messo 0 il 4 non c'è ho messo 0 il 2 non c'è l'ho messo 0 l'1 c'è e ho messo 1 quindi questo è 17 21 faccio lo stesso gioco 21 è 16 più 5 l'hanno già fatto questo 16 8 non c'è 5 è 4 più 1 quindi il 4 c'è il 2 no l'1 si e quindi faccio la somma 1 più 1 fa 0 con riporto di 1 1 più 0 più 0 fa 1 senza più riporto 0 più 1 fa 1 0 più 0 fa 0 1 più 1 fa 0 con riporto di 1 quindi questo è il risultato che ottengo questo risultato che cos'è? abbiamo detto che è un 2 più 4 più 8 no 16 no più 32 quindi fa 36 38 e per fortuna quadra anche in decimale quindi stavolta non ho sbagliato a fare i conti c in decimale ok? quindi il meccanismo non è molto diverso dalla direzione normale bisogna solo fare attenzione ai riporti ecco non c'è ancora mai capitato un caso ne facciamo un altro sotto magari una cosa del genere no scusate no questo 1 0 1 1 1 mettiamo uno qui un altro uno qui è una cosa del genere dove ho tanti uni quindi avrò tanti riporti allora 1 più 1 sappiamo già che fa 0 col riporto di 1 questo è il caso che non c'è ancora capitato 1 più 1 più ancora 1 quindi la somma farebbe 3 3 che cos'è? è 1 col riporto di 1 perché il riporto ovviamente vale 2 mentre in base a 10 il riporto vale 10 in base a 2 il riporto varrà 2 quindi quando 1 più 1 che fa 2 più ancora 1 che fa 3 il risultato sarà un 1 nella cifra delle unità del peso corrente più un 1 come riporto che vale 2 come peso sulla cifra successiva e quindi poi vado avanti 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 qui ho di nuovo un 3 e quindi un 1 col riporto di 1 in questo caso ho scritto che 11 più 15 fa questo cos'è? 2 più 8 10 più 16 26 ok? si tratta di un attimo riprenderci la mano ma non diciamo così non c'è nulla di bisogna un attimo ritornare alla terza elementare quando facevamo questa operazione in decimale riapplichiamo lo stesso lo stesso ragionamento bisogna solo fare attenzione a non compondersi con i riporti questo per quanto riguarda i numeri abbiamo detto finora abbiamo sempre parlato di numeri interi positivi che è il punto di partenza siamo tornati alle elementari quindi alle elementari nessuno sapeva che esistessero i numeri negativi e poi più tardi hanno imparato che invece esistevano anche i numeri frazionali qui non ci siamo ancora siamo ancora alla parte più semplice per quanto riguarda la sottrazione funziona nello stesso modo di nuovo con le solite regole Giorgio mi ha chiesto di ripetere cosa succede se abbiamo un 3 3-1 il risultato è 1 col riporto di 1 quindi se abbiamo torniamo indietro solo per rispondere ecco qui c'è l'esempio sulla slide in cui hai 3-1 quindi hai la somma di 1 più 1 più un riporto che ti arrivava ovviamente dal bit precedente il risultato fa 1 e in più propaga un riporto dall'altra parte quindi questo 3 l'ho scritto come 2 più 1 praticamente l'1 è qua e il 2 sarebbe questo 1 che poi l'ho riportato sul bit più significativo e quindi vale doppio se avessimo 1 più 1 più 1 più 1 non può capitare se sto sommando due numeri soli se sto sommando due numeri binari non potrà mai capitare che io abbia 4 bit da sommare in colonna avrò solamente i due numeri dei due bit dei due numeri che sto sommando e più eventuale riporto se ne sommassi 3 non lo faccio nel senso che quando un calcolatore deve fare a più b più c farà a più b e quindi somma due numeri e il risultato sommerà il c una volta che io ho una macchinetta un algoritmo un metodo per fare la somma di due numeri per sommarne tre uso la proprietà associativa della somma e quindi per sommare tre numeri sommerò i primi due e il risultato della somma sommerò il terzo quindi non c'è nessun calcolatore che al suo interno in hardware abbia un'operazione che fa la somma di tre numeri in un botto solo ma se ne devo sommare tre ne devo sommare due più un terzo e quindi quel caso non si verifica mai ok altrimenti dovrebbe generare un riporto su due bit oltre su due cifre oltre ma a quel punto le casistiche sarebbero molte di più noi in decimale teniamo a mente quanto vale il riporto quindi possiamo anche avere un riporto di 27 però nella pratica non vale la pena complicarsi le cose basta semplicemente fare le somme in sequenza ok la sottrazione funziona nello stesso modo funziona nello stesso modo dove però anziché avere un concetto di riporto che in inglese qua si chiamava carry abbiamo un concetto di prestito prende in prestito l'albit successivo un valore e le regole ovviamente sono uno meno zero fa uno zero meno zero fanno zero uno meno uno fa zero e il caso che invece è quello difficile tra virgolette è quando da zero devo togliere uno quindi non ne ho e non ne devo togliere uno allora cosa faccio prendo in prestito prendo in prestito cosa due e quindi questo zero diventa un due e due meno uno fa uno ma devo ricordarmi che sul bit più significativo su quello alla mia sinistra ho preso un uno in prestito e quindi dovrò poi sottrarlo vediamolo anche qui con un esempio prendiamo non so undici meno sei ok undici meno sei allora uno meno zero fa uno uno meno uno fa zero e fin qua facile no? non ci sono riporti non ci sono prestiti adesso devo fare zero meno uno ricordiamoci siamo in seconda elementare zero meno uno non si può fare allora cosa faccio? prendo in prestito una decina pardon non siamo in base a dieci prendo in prestito una duina vuol dire che prendo in prestito dalla cifra alla mia sinistra una unità lo scrivo così meno due meno uno e mi guadagno un più due sulla cifra corrente ricordiamoci cosa facciamo in base a dieci quando prendiamo un prestito quando io faccio dieci meno quattro o venti meno quattro scusate zero meno quattro non si può fare allora prendo in prestito il venti diventa dieci e lo zero diventa dieci perché l'uno che ho tolto dalla decina è diventato dieci unità l'uno che tolgo dalla cifra qual è questa non la chiamo decina centinaia la chiamo cifra due alla terza l'uno che tolgo questo uno è un uno per due alla terza questo due è un due per due alla seconda allora è chiaro che se io tolgo un uno da due alla terza che viene moltiplicato verrebbe moltiplicato per una potenza due alla terza per avere il valore uguale identico dovrò avere due per due alla seconda affinché si annullino affinché il numero totale sia rimasto lo stesso quindi ho iscritto lo stesso numero sottraendo un'unità in due alla terza e sommando due unità in due alla seconda e quindi ottengo lo stesso identico risultato adesso avendo fatto il prestito faccio l'operazione due zero più la parte positiva è questa zero più due fa due meno uno fa uno e qui ho risolto la cifra del due alla due per la cifra due alla tre è semplice qui ovviamente c'è un zero che è sottinteso la parte positiva è l'uno e la parte negativa da sottrarre c'è questo zero e questo meno uno che ovviamente devo sottrarre quindi avrò uno meno uno che fa zero quindi undici meno sei fa giustamente cinque quindi bisogna fare un po' attenzione alla gestione di questo riporto l'idea è che sottrago un uno dal bit alla mia sinistra e quindi io uso un più due nella mia posizione che mi permette di risolvere le sottrazioni anche se ci fossero dei riporti concatenati questo funziona lo stesso prendiamo una cosa molto semplice prendiamo otto meno che ha tanti zero e quindi ci dà fastidio meno tre il due per rispondere a Maria Chiara non è che lo uso semplicemente lo tengo a mente non compare mai nei numeri qua sono semplicemente gli asterischi le note che ci mettiamo per ricordarci abbiamo messo un riporto rispondo anche ad Angelo che mi dice se il suo massimo 4-1 in colonna come dicevo prima ha già Filippo che mi ha già fatto questa domanda non si fa se ne sommano due e poi al risultato se ne sommano un altro e quindi non ci saranno mai più di tre cifre contemporaneamente da sommare altrimenti avremo un riporto su due bit oltre che è complicato da gestire quindi si evita nessun problema ok facciamo 8-3 0-1 non si può fare e quindi tolgo un 1 da qua e aggiungo un 2 qui 2-1 a questo punto fa 1 poi mi sposto sulla cifra in peso 2 alla 1 0-1 meno ancora 1 e qui sono ancora messo peggio perché da 0 che è l'unico componente positivo devo sottrarre 2 volte 1 1 perché amminuendo qua sotto e l'altro 1 perché è il prestito che devo restituire e allora a maggior ragione prenderò un prestito dalla cifra precedente e ovviamente mi prendo un più 2 qua poi questo meno 1 più 2 io lo sto scrivendo in modo pedante proprio veramente come bambino in seconda elementare perché così ce l'abbiamo presente poi in realtà basta quando si prende l'abitudine si segna semplicemente il prestito nella cifra successiva quindi tutto questo 2 e non si scrive più ma ricordiamocelo non fa male scriverlo per non sbagliare allora che operazione devo fare qua io ho 0-1 che è l'operazione di base 0-1 meno 1 più 2 quindi in totale ho la parte positiva è 2 più 0 2 la parte negativa è meno 1 del minuendo e meno 1 del prestito quindi 2 più 2 meno 2 fa 0 come risultato qua cosa abbiamo abbiamo 0 meno qui non si vede niente ma in realtà ci sarebbero 0 0-0 ma poi ancora meno 1 0-1 0 non mi darebbe problemi ma purtroppo devo ancora sottrarci meno 1 e vabbè e allora avrò bisogno di prendere un prestito anche qua quindi tolgo un 1 qua metto un 2 e quindi a questo punto farò 0 più 2 meno 0 meno 1 quindi la componente positiva è un 2 0 più 2 la componente negativa è meno 1 0 meno 1 risultato più 1 sull'ultima colonna sono solo 4 bit ma sono stati faticosi abbiamo un 1 meno 1 meno 0 che fa semplicemente 0 e quindi abbiamo riscoperto che 8 meno 3 fa 5 suavo mi sta chiedendo ma perché dobbiamo imparare questa cosa quando basterebbe convertire in base 10 e fare i conti in base 10 è bravo il calcolatore non può farlo il calcolatore non è capace a fare i conti in base 10 il calcolatore conosce solo la base 2 quindi noi stiamo cercando di capire come può il calcolatore fare quei calcoli sapendo che lui la base 10 non ce l'ha non la può vedere non la può neanche pensare lui può solo pensare in base 2 sarebbe possibile arrivare alla fine con un meno 1 no perché vorrebbe dire che hai bisogno di prendere un prestito da un bit che non esiste quindi in quel caso la soltazione non si può fare ricordiamoci quando eravamo bambini dicevano che 3 meno 8 non si può fare a meno che non impariamo a rappresentare anche i numeri negativi questa regola qua della notazione posizionale ci dice solamente la formuletta torniamo indietro di qualche pagina questa formula questa formula da cui siamo partiti abbiamo costruito tutto a partire da qua può solo generare dei valori di a positivi funziona solamente se siamo nel dominio di numeri naturali naturali limitati limitati a 2 all'n meno 1 quindi non infiniti funziona solamente in quel caso poi chiaramente si sono dovuti inventare delle estensioni per far funzionare anche sui numeri decimali sui numeri negativi e ci arriviamo per ora invece siamo solamente in grado di lavorare con i numeri decimali con i numeri positivi Andrea mi chiedeva se i numeri i zero alla sinistra vanno scritti no possono anche non essere scritti io li ho esplicitati per vedere meglio che operazione stavo facendo però è ovvio che se non c'è un valore è sottinteso 0 noi abbiamo un foglio di carta in un foglio di carta ci può essere scritto 1 ci può essere scritto 0 o può esserci la casella vuota ti rende presente che dentro i bit del computer non esiste il vuoto o è 0 o è 1 sempre quindi in realtà noi stiamo facendo i conti così sulla lavagna ma dentro un calcolatore se il calcolatore avesse 4 bit i numeri che abbiamo appena sottratto sarebbero rappresentati in una scatola da 4 bit una parola da 4 bit e quindi 8 sarebbe stato così l'8 di sopra il 3 sarebbe stato così cioè non posso lasciare vuote queste caselle se queste caselle sono dei bit un bit è per forza o 0 o 1 non può essere non specificato non può essere vuoto ok la domanda di Matteo mi chiede se abbiamo una sequenza 15 meno 8 più 3 eccetera cosa devo fare beh faccio l'operazione da sinistra verso destra quindi in questo caso lui voleva fare 15 meno 8 più 3 prima faccio 15 meno 8 che è facilissimo da fare perché 15 è fatto così perdono 15 è fatto così e 8 è fatto così quindi la sottrazione è semplicemente 7 e poi volevi sommare 3 va bene posso sommare 3 e quindi mi fai 0 1 di riporto 1 1 di riporto 1 0 quindi è abbastanza semplice le operazioni si fanno sempre a 2 a 2 se ho una sequenza di operazioni più somme da fare o somme miste sottrazioni si va da sinistra verso destra normalmente devi sempre fare in modo però di incappare in risultati parziali che siano sempre positivi con quello che possiamo fare allora Filippo mi dice che nella slide dopo fa 1 meno 6 infatti la slide è sbagliata e quella che vi sto proiettando io è corretta perché qui ha un 1 mentre nella slide iniziale c'erano 0 infatti in quel caso dava un risultato che non era che non era coerente che non era corretto arriveremo a interpretare queste cose quando conosceremo un pochino sui numeri negativi per ora le operazioni che sappiamo fare presuppongono che i numeri siano sempre positivi sia i numeri di partenza quindi gli addendi sia i risultati anche i risultati intermedi cosa succede se esco da questo giardino da questo seminato che sono le cose che mi state chiedendo alla fine noi abbiamo detto ma sì ma i numeri vanno da 0 a 2 all'n meno 1 bravo però se io faccio la somma di due numeri questa somma potrebbe diventare più grande di 2 all'n meno 1 se faccio la sottrazione di due numeri può darsi che la sottrazione diventi più piccola del minimo cioè più piccola di 0 diventi negativa allora cosa succede come trattiamo questo caso io ho due numeri che sono perfettamente rappresentati nell'intervallo di rappresentazione che ho quindi se ho 8 bit da 0 a 255 ho due numeri completamente da 0 a 255 200 più 200 se voglio fare 200 più 200 il 200 è rappresentabile benissimo in 8 bit la somma 200 più 200 che farebbe 400 no non è più rappresentabile su 8 bit servirebbero 9 bit perché dovrà arrivare fino a 512 511 in questo caso ho due addendi perfettamente rappresentabili che cerco di combinare con un'operazione il cui risultato non è più rappresentabile noi abbiamo un bel da dire fa 400 quel risultato peccato che il 400 non entra nel cervello di un calcolatore a 8 bit non esiste non lo concepisce quel numero è un errore non posso farlo ok è un valore che lui non è in grado di rappresentare è un po' come avevate le calcolatrici non quelle scientifiche ma quelle di una volta semplicemente con le quattro operazioni che trovate adesso come omaggio del fustino di tersivo o cose di questo genere se tu facevi la somma di due numeri troppo grandi o la moltiplicazione di numeri troppo grandi alla fine ti scriveva E errore cioè è un numero troppo grosso e io non sono capace di rappresentarlo con le calcolatrici che avete voi questo non succede perché passano in notazione scientifica e riescono a rappresentare qualsiasi numero quasi che voi gli diate in pasto col calcolatore in rappresentazione binaria pura con numeri naturali positivi ho questa gabbia i numeri sono solo da 0 a 2 alla n-1 se un'operazione mi porta fuori da questa gabbia e quello che ottengo è una condizione di errore che prende il nome in gergo di overflow overflow significa in italiano tradotto in italiano è tracimare cioè l'operazione che fa un fiume quando rompe gli argini cioè ci ho messo oppure quando metto troppa troppa birra in un bicchiere e la schiuma esce ok è uscito rispetto al contenitore non ci stava tutto cosa succede che la birra va sul tavolo non è che rimane nel bicchiere non posso neanche sapere quanta ne è andata fuori ok perché è fuori dal bicchiere e se è fuori io non la vedo più se è fuori dai miei bit io non so quanti ne sono usciti quindi io ho un risultato se cerco di fare un'operazione di questo genere ho un risultato che di sicuro è sbagliato ma non so quale sarebbe il risultato giusto perché il risultato giusto tra virgolette giusto è un numero che io non conosco che non so scrivere che non so pensare cioè facciamo un esempio pratico se io lavoro su 4 bit e volessi fare 4 bit sappiamo che se n è uguale a 4 andiamo da 0 a 15 come intervallo di variazione e vogliamo fare la somma di due numeri che sono dal 0 a 15 facciamo non so 12 più 13 proviamo a fare 12 più 13 facciamo qua 12 più 13 quanto fa? se lo proviamo a fare su 4 bit 12 è 8 più 4 quindi 1 2 4 8 13 è 8 più 4 più 1 1 0 1 1 faccio la somma e mi viene 1 0 0 con riporto di 1 1 con un riporto che non so dove mettere perché questo riporto dovrebbe sommarsi a un ipotetico quinto bit ma se io ho solo 4 bit il quinto bit non c'è non esiste e quindi va perso un po' come la birra che esce dal bicchiere quando quando tracima quando va in overflow e quindi 12 più 13 se vado a leggere il risultato mi dice che fa 9 8 più 1 che chiaramente è sbagliato il risultato è sbagliato non è il valore vero ma di meglio non posso fare perché il valore vero su 4 bit non lo posso scrivere non lo posso scrivere quindi il meglio che posso fare è dire attenzione c'è un problema in questa operazione si è verificata una condizione di overflow per cui la macchinetta della somma dei bit mi ha dato 9 ma fai attenzione che questo 9 è di sicuro sbagliato qualsiasi valore giusto non te lo so dire perché non è un numero che io sono in grado di rappresentare quindi ogni operazione di somma di sottrazione in questo caso su quelle che abbiamo visto che eseguiamo su numeri a dimensione finita può causare una condizione punto di overflow quando il risultato eccede i limiti della rappresentazione nel caso del python come mi chiede Filippo questo non succede perché in automatico python usa un numero di bit maggiore quando il risultato non ci sta quindi se voi guardate la documentazione di python non ti dice qual è il massimo numero di interro rappresentabile non esiste perché lui eventualmente se non gli bastano i 64 bit o i 32 bit ne usa altri 32 poi altri 32 e così via lo fa via software però l'interprete python ci pensa lui a darci l'illusione di avere i numeri interi illimitati ma dentro quindi intercetta lui l'interprete python la condizione di overflow in modo da darti un risultato corretto ma se tu facessi quest'operazione con un linguaggio meno protetto meno di alto livello come ad esempio in C allora ti accorgi che queste operazioni capitano nel senso che fai la somma di due numeri e il risultato ti viene sballato se la somma reale andasse dovesse andare diciamo così oltre i limiti della presentazione questo sia nel caso in cui facciamo una somma e il risultato sia maggiore di due all'n-1 sia nel caso in cui facciamo una sottrazione e il risultato sia minore di zero in entrambi i casi si chiama overflow anche se il concetto di overflow con un numero negativo non ci suona un po' strano però in realtà si chiama nello stesso modo perché è lo stesso meccanismo è lo stesso principio quello che dice Andrea invece che è analogo all'index out of range non propriamente nel senso che l'index out of range è una dimensione che abbiamo scelto noi diciamo così via software che poi in Python può essere allungata o ristretta l'array invece qui stiamo parlando di un numero di bit che proprio fisicamente in hardware c'è o non c'è se voi andate a aprire con una lente un microscopio elettronico perché con una lente non ci fate nulla la CPU del vostro calcolatore i bit ci sono fisicamente sono delle celle di circuiti reali e quindi se ne ho messe 32 non ce ne sono 33 quindi quella in più semplicemente non esiste ciò che fa la CPU l'hardware del calcolatore è in grado di accorgersi quando qualcosa va male e ve lo dice quindi poi dovete in qualche modo sapere che qualcosa è andato storto e che quindi quel risultato non si può usare questo qui non usare è un 9 se io vedo questo 9 qui non c'è nulla che mi dice che quel 9 è sbagliato è un 9 come tutti gli altri 9 del mondo ma per come è stato calcolato è sbagliato perché questo qua c'è scritto che l'overflow è una condizione dinamica cioè me ne accorgo mentre faccio l'operazione perché se guardo il risultato non c'è nulla che mi dica se quel risultato è giusto o sbagliato ma mentre facevo l'operazione me ne sono accorto me ne sono accorto come? beh in questo caso è stato facile me ne sono accorto perché io avevo un riporto qui che avrei voluto sommare a qualcuno ma non c'era nessuno a cui sommarlo e allora mi accorgo che c'è qualcosa che mi manca e quindi anche il circuito elettronico che fa questa operazione se ne accorge e segnala questa condizione di overflow quindi nel caso in cui facciamo una somma di numeri in binario puro binario puro è il nome in gergo per questa rappresentazione posizionale binaria positiva solo con numeri positivi se io ho un riporto che esce fuori del bit più significativo dal most significant bit allora ho una condizione di overflow perché il risultato vero avrebbe bisogno di un bit in più ma io non ce l'ho e se non ce l'ho il risultato che mi resta è sbagliato nella sottrazione la cosa analoga succede se io sto cercando di prendere un prestito dal bit più significativo cioè quando faccio l'operazione sul bit più significativo cerco di prendere un prestito da un bit che non esiste quindi in realtà sto prendendo a prestito di soldi finti e quindi faccio finta di aver preso il prestito ma in realtà il prestito non lo sto pagando e quindi il risultato sarà sbagliato questo succede quando viene fuori un numero negativo questo succede nella versione della slide che avete a voi qua con lo zero quando cerco di fare un prestito verrebbe fuori quando cerco di fare questa operazione se qui ci fosse uno zero come c'è nella versione della slide errata che è la versione che avete voi provo a fare l'operazione e mi viene da prendere un prestito all'ultimo e ovviamente non ce l'ho allora questi tipi di errori questi tipi di meccanismi sto rispondendo un po' a tutti che state discutendo questo tema noi non li vediamo quando programmiamo in python perché sono meccanismi molto più di basso livello sono meccanismi che esistono nell'aritmetica binaria il calcolatore li deve gestire in qualche modo ok a seconda del linguaggio di programmazione queste varie condizioni di overflow vengono viste in un modo completamente diverso faccio tre esempi se noi lavoriamo nel linguaggio C fate un'operazione che genera overflow il linguaggio C non se ne accorge proseguite col valore errato non ve ne accorgete neppure in linguaggio python l'overflow non si può verificare perché il python aggiunge tutti i bit che servono quindi se vi servono più bit lui ne usa di più in automatico in linguaggio assembler quindi linguaggio codice macchina invece ogni volta che faccio un'operazione ho un apposito flag che viene generato in automatico dalla CPU e posso andare a interrogare quel flag flag booleano vero falso 0 1 e ogni volta che faccio un'operazione quel flag mi dice guarda che nell'ultima operazione c'è stato o non c'è stata condizione di overflow e quindi io scrivendo i programmi se lavoro in assembler posso andare a verificare se l'ultima operazione fatta ha generato overflow oppure no quindi matematicamente esiste questa condizione come questa condizione viene vista tra virgolette programmando i vari linguaggi di programmazione questo dipende appunto da come è stato impostato il linguaggio stesso a livello progettuale qualcuno potrebbe scandalizzarsi e dice ma come il linguaggio cino non rileva gli overflow ma sì però in realtà uno sa con che numeri ha a che fare quindi se so che devo lavorare con dei numeri da uno a mille o da uno a diecimila o da uno a centomila quando io ho un intero che mi contiene trentadue bit e quindi può diciamo così contenere valori fino a quattro miliardi chi se frega cioè sono sicuro che ci sto dentro quindi a monte io so quali sono i range di numeri con cui lavoro e a monte dovrò dimensionare usare un numero di bit sufficiente per poter contenere quei numeri se no sono incauto diciamo così per non dire pirla a usare meno bit di quelli che servono per rappresentare i numeri che so che cosa dovremmo rappresentare però nei programmi che fanno calcolo numerico bisogna fare attenzione la domanda non è tanto cosa capita quando c'è un overflow la domanda da farci è come faccio a evitare di cadere in questa condizione di overflow la risposta è garantissi di avere tanti bit quanti ti servono ok allora qua ci fermiamo per oggi e su questo tema riprendiamo poi la settimana prossima dove andiamo avanti cerchiamo di estendere questi quattro concetti di base che abbiamo visto su numerazione binaria semplice cerchiamo di estenderla a vedere anche come si possono rappresentare i numeri negativi i numeri frazionari oppure informazioni che non siano numeriche come i caratteri le immagini eccetera eccetera è un castello che si costruisce sulla base di questa semplice formula binaria per oggi sono costretto a lasciarvi perché è tardi e quindi noi ci rivediamo domani mattina dove riprendiamo di nuovo il nostro lavoro con le liste in Python buona serata grazie a tutti